ok eccoci qua con la seconda parte del lago dopo aver sconfitto Rayquaza di pokémon no ho sbagliato vabbè non volevi dire ma è uguale ok vabbè per me è uguale basta che non sia piccio iniziamo qua la strada è sbloccata è un livello a doppia dimensione qua adesso si può liberare cuba no non voglio il cuba guardiamo sui nervi ma adesso diceva ecco beh bravo cavolo se non ci stavo ecco così ci prendiamo l'altro tesoro non lì va sotto? si oh ma vabbè cavolo stai andando con lì ci andiamo non so se lì c'è un altro trofeo la muschetta è bellissima ok qua serve un colpo di noccio pistol perché qua non si vede niente prova sotto eccolo vedo ok ci siamo riusciti ecco dovremmo prendere quella bomba lì c'è quella bomba ok qua c'è un po' ecco è che tendo un po' i comandati che bellezza il ragio pariente viva! e il ragio pariglio andiamo un po' perchè si parla sui salveri aspetta poi i robili si possono usare anche come oggetti sei miei visto aspetta non dovrebbero andare nell'altra perchè un po' di 400 esorti stavano nell'altra Ok, un ronfaringhio. Che strano, non è? La base trofea? No! No! Perché ha sprecato la base trofea? Mi serviva un ronfaringhio! Vabbè, quello che fa? Che non sapeva che cosa? Quello ha tirato un ronfaringhio! Perché quando qualcuno ha ancora tanta vita, ci tira la base trofea e si trova insieme? Attenzione a quelle cose lì che ho fatto! Che ti bacia e dà 10 di grano! Sono davvero dolce! Stai al centro! Ok, scagliamo! Via, 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 via! Dobbiamo andare sotto? Stai attento! Ecco! No! Dobbiamo andare nell'altra e attivare il più brutto ora! No! No! Mi ha preso! Muori! Muori! Non mi piaci! Sei troppo brutto! Ok, bisogna andare di qua! C'è un intervento ora! Altri Gumba! La! 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 Ok, andiamo! Deveva aver attivato un interventore! No! No! No, aspetta! Si! Ma questo è il posto di torno! Vi l'avevo detto che era molto complicato! Quello non è che fai fare! Non il tempo! E qua! No! Ma la passata è che stile! Dicendo la tua super curiosità ti salvava, ve lo! Eh? Dicendo che la tua super curiosità ti salvava... C'era il nostro solo per te! No! Ci siamo persi veramente! Eccolo! Io non ci arrivo corretto Mario. Ecco discusso. Daici un pugno. Ecco, bene, possiamo andare. Ciao. Ok, siamo già 5 minuti, Carlo. Ok, ci siamo saluti. Andiamo nell'altra dimensione. Eccolo, entraci! Non ce l'ho capito. Infatti ci posso entrare su lui. Quando è che finisce sta con me? Dove è morto, dove è morto. Ok, abbiamo quasi finito. Dobbiamo fare queste due sulle azzate e poi abbiamo fatto. Cupa. Ecco, vuoi schiacciare. I cupa tutte, te i cupa tutte. Bene. A te i cupa e a me i gumba. A me i gumba. A me i gumba. No, a te i gumba. E i gumba. A me i gumba. Sì, i gumba sono più facili, grazie. Giù. Porta. Puff, se usciamo da questa porta, che è fuori? A me i gumba. A me i gumba, a me i gumba, a me i gumba. Cosa c'è? questo pesce c'era già una marea la mare era la marea per il pesce bravo ma vedete non riesco a fare non riesco a fare sto cercando di non lo so non mi trovo ok ok vabbè abbiamo finito visto 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 come 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 è possibile ragazzi noi andremo avanti per 10 minuti come la fai vienci a trovare un po' 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 come fa a fare un tiro così Ah beh, c'è l'incontro contro Bowser oscuro. Questo qua è il primo incontro che si fa. Il primo incontro. BASTA! Usate il taccio del male piuttosto. Sarà difficile da battere, perchè Bowser è fregato. Fatima mano, almeno colpisci. Che sto sparando? Alla cazzo. Scusate. Ok, vai, vola fuori. Vola fuori! Ho detto vola fuori! Se lo voli fuori faccio volare fuori io. Visto perchè è difficile. C'abbiamo due minuti per far fuori sto Bowser. C'è un'altra ricoltura? Ormai ci siamo. Poi ci sarà un livello difficilissimo con DT Kong, Falco e Mami. Scusate. Con DT Kong, Falco e Fox. Falco sarà un nuovo personaggio che verrà sblocato poi. È fuori fuori! Vieni qua giù così ti posso dare una bella pistola. Ok, mi ha volato fuori! Finalmente! Oh cavolo, non cambia un tempo! Adesso lui lo tocca, diventa un particello, scrive. E arriva la frecciata! Da Bowser! Le tira in continuazione! Di Pico si vuole far avanti! Lo porta via! Si vuole vendicare! Si! Ok, scappa! Quindi ragazzi noi non ce la facciamo! Ciao! Pico! Che è? Cioè adesso sto comprando anche Fox! E noi vi lasciamo qua! Arrivederci! Ciao!